ciao amici bentornati come anticipato questa mattina nell'altro video pomeriggio ancora britannico tempo fuori anche britannico quello che abbiamo noi qua milano e le partite che ho seguito il tempo era buono invece dal punto di vista meteorologico due incontri molto diversi sono partito dalla scozia oggi c'era il derby di glasgow una delle partite più importanti probabilmente della storia del calcio una rivalità che va al di là del pallone una rivalità storica una rivalità religiosa tra i protestanti dei glasgow rangers contro i cattolici dei celtic una partita che quest'anno ha preso un valore particolare perché dopo nove anni di titoli consecutivi del celtic i rangers sono in vantaggio sono in netto vantaggio si sono avvicinati a questa partita con un vantaggio in classifica di 16 punti nei confronti dei rivali il celtica tre partite in meno per cui comunque con tre partite da recuperare più questa da vincere per i celtic era una grande occasione di provare a riaprire il campionato e invece è andata male il glasgow rangers hanno vinto hanno vinto per uno a zero sono andati quindi a più 19 in classifica e hanno messo probabilmente una serie ipoteca su questo campionato e su tornare a vincere dopo aver passato tempi comunque molto difficili molto burrascosi nel passato la squadra è ripartita dalle serie minori e si è riaffacciata quest'anno con la guida di steven jeller nelle alte posizioni della classifica l'incontro è stato come mi aspettavo molto bello molto combattuto il celtic è partito forte ha giocato molto bene soprattutto nel primo tempo avrebbe ampiamente meritato di andare in vantaggio ma ha trovato sulla sua strada un eccezionale portiere mcgregor del rangers 38 anni grande esperienza già esperienza nel glasgow andato poi a giocare in inghilterra rientrato a casa autore di soprattutto strepitosa nel primo tempo quando griffith ha fatto un tiro da fuori area e mcgregor l'ha deviato sul palo impedendo quindi al celtic di andare in vantaggio nel secondo tempo ancora leggermente meglio il celtic la partita è svoltata attorno al sessantesimo prima c'è stata una grossa occasione per eduard fermato dal centrale ballo glum del gatto e lesgo rangers con un intervento scivolata strepitoso sul rovesciamento di fronte contrasto da ultimo uomo considerato da ultimo uomo dell'arbitro dall'arbitro da parte dell'israeliano biton e cartellino rosso il celtic è rimasto in dieci da quel momento offensivamente gli uomini di lennon non sono più riusciti a fare nulla e i glasgow rangers i rangers sono passati in vantaggio con un autorete calcio d'angolo deviazione di testa del capitano mcgregor del celtic palla in rete vantaggio nel finale più vicino al 2 a 0 i rangers rispetto al pareggio del celtic campionato quindi sembra veramente andato in ghiaccio non con una prestazione particolarmente brillante da parte dei rangers che però hanno fatto quello che serviva hanno tenuto in difesa hanno avuto un grande portiere e quando è stata l'occasione hanno saputo trovare il gol in avanti anche se aiutati dagli avversari migliore in campo per i glasgow rangers sicuramente il portiere mcgregor autore di due o tre interventi veramente importanti e uno strepitoso per i senti che nel primo tempo avrei detto al centrocampo che ha giocato molto bene ha saputo controllare la partita ma è calato molto nel secondo tempo sia christy sia mcgregor e quindi scelgo alla fine il difensore centrale ayer giocatore norvegese leader forte di testa gladiatore direi migliore in campo per loro la partita è stata arbitrata da bobby madden arbitro con esperienza anche di champions league sei presenze per lui in champions league una prestazione che non mi ha particolarmente soddisfatto in realtà da parte di madden arbitro comunque esperto arbitro anche grosso fisicamente quindi capace adatto per controllare i giocatori ha avuto bisogno di fischiare 34 falli 6 cartellini gialli il cartellino rosso io sul rosso non sono così convinto sicuramente fallo netto sicuramente c'era una strada aperta verso la porta però il gioco era un po sulla sulla fascia destra ayer poteva rientrare a controllare e a contrastare l'attaccante del rangers per cui alla fine è una decisione che ci può stare ma io avrei preferito il cartellino giallo in questa situazione nel finale anche una piccola risetta tra i giocatori controllata un po fatica insomma da madden mi sarei aspettato una prestazione migliore rispetto a quella che ha prodotto voto sei comunque la prestazione è sufficiente ma poteva avrebbe potuto fare di più commento della partita ben in campi la voce della premier scozzese su sky voto sette e mezzo un tono di voce forse alle volte fin troppo alto fin troppo eccessivo quasi per descrivere le fasi di gioco per una partita è stata tanto combattuta è stata tanto soprattutto da un punto di vista più che tecnico da un punto di vista proprio di fogo agonistica quindi lui comunque ha contribuito bene a raccontarla per cui il voto è un meritato sette e mezzo finito il derby di gresgo mi sono spostato a londra per una partita che attendevo con con grande interesse il crystal palace contro lo sheffield la sfida salvezza ok che lo sheffield fino ad ora ha ottenuto due punti in 16 partite quindi era di fronte a una partita contro una rivale più o meno diretta da riportare nella zona per non retrocedere era una partita veramente importante per lo sheffield ebbene lo sheffield ha giocato in una maniera raccapricciante nonostante avesse in campo 10 giocatori britannici e quindi mi sarei aspettato una combattività una tigna una voglia di combattere molto più elevata terzo minuto crystal palace già in vantaggio qualità della reazione sheffield molto bassa fine del primo tempo recupero ampio cinque minuti nell'ultimo minuto di recupero contropiede di del crystal palace che praticamente è partito dalla sua metà campo ha scartato tutti i giocatori avversari trovando comunque una resistenza abbastanza minima da parte dei giocatori dello sheffield e ha realizzato il gol del 2 a 0 e ha sostanzialmente chiuso la partita secondo tempo è stato realmente noioso lo sheffield non ha fatto sostanzialmente nulla e mi ha dato proprio l'idea purtroppo di essere una squadra ormai rassegnata a questo destino certo due punti in 17 giornate è veramente pochino le possibilità di salvarsi sono poche però è una squadra che lo scorso anno è arrivata a arrivata un passo dall'europa league giocando molto bene agli stessi giocatori dell'altro anno è veramente uno di quei misteri che ogni tanto succedono nel mondo del calcio dello sport che sono veramente complicati da da andare a capire da andare a sondare un po difficile in una partita così brutta trovare i migliori in campo alla fine ho scelto centrocampista del il centrocampista del crystal palace milo milojevic e ho scelto egan per lo sheffield veramente un giocatore è un po un leader della difesa uno dei pochi che ha provato a combattere a fare qualcosa di buono partita abilata da stuart attuale che avevamo già visto lunedì arbitrare molto bene celsi aston villa anche oggi è arbitrato bene 26 falli quattro cartellini gialli si è perso forse un giallo a za autore di una reazione con la mano su bogle che avrebbe potuto sanzionare con un cartellino giallo ma nel complesso ha dato un buon un buon ritmo e sicuramente un ottimo controllo alla partita per cui il voto a stuart attuale è 7 tutta la mia stima invece l'ammirazione e simpatia federico zancan che è riuscito a trovare il modo di commentare la partita fino alla fine certo alle volte sia un po ripetuto parlato di mercato dovuto un po parla divagare anche rispetto al confronto stesso che aveva veramente poco da dire però avuto e 7 sicuramente meritato perché non era facile portare a casa una partita di questo squallido livello quindi il pomeriggio altalena bella partita glesgo divertente partita veramente brutta invece a casa del crystal pa sono contento però per roy hodson che con il suo 4 4 2 un gioco un po difese contropiede però sta portando al crystal palace anche quest'anno un'ottima posizione di classifica e quindi sempre tanto rispetto e tanti complimenti a roy bene con questo chiudiamo questa nostra giornata calcistica io vi ringrazio come sempre per l'attenzione ricordatevi iscrivetevi al canale gentilmente i like se vi piace il video oggi ho lanciato il video attraverso una storia su instagram su facebook per prepararvi per pubblicizzare anche un po l'avvenimento della pubblicazione del video vi aspetto per domani avremo calcio torna la serie a e avremo della pallacanestro grazie ragazzi una buona serata presto ciao